si chiama parmare quartileone andiamo ehi il freno si è fermato svegliati bevi orsa forza bevi orso e sarà successo qualcosa quindi siamo già arrivati ma che cosa è successo qualcosa di eccitante spero coraggio venite andiamo a vedere bene adesso un pochino a sinistra ancora un po ma quando mai si è visto un treno che funziona con un po' di gelato alla fragola molto bene perfetto e adesso apri tutto eh oh oh ma cosa fai tu scusa pronto l'osso eh mi è scappato eh attenzione Peter bevi orsetti che cosa ci fate voi ora lascia perdere noi pensa a loro invece ma andando pronto l'osso oh no oh no oh no oh no oh eh eh abbassati pronto l'osso oh oh eh ma sono giocattoli all'attacco 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 avanti oh no oh no e gli andiamo oh no ersho arrivo ti salvarò io oh no oh prendi viene da per un momento ah e adesso prendi Questa Sì, 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 sì! Non ve la caverete così facilmente. Oh no, non parli del male. Non vedi com'è già ridotto, poverino? Io non voglio fare del male proprio a nessuno, ma siete stati voi per premi ad attaccarci. Noi non volevamo attaccare voi, volevamo solo il vostro treno. Spiegami che differenza. Eh beh, ecco, nessuna, ma vi do un consiglio. Andatevene, anche noi stiamo cercando di abbandonare Giocattolandia. Ma noi siamo qui per salvare Giocattolandia. Salvarla? Noi ci abbiamo provato, ma guardate che cosa ci è successo. Oh santo cielo, che cosa, che cosa è successo? Chi ti ha ridotto in questo modo? È una lunga storia. Ma abbiamo tutto il tempo per ascoltarti. Grazie. 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 Grazie.